Amici di chitarre, in questa lezione tratterò la tecnica di uno dei più grandi chitarristi acustici contemporanei, Tommy Emanuel. Reduci da poco dalla sua torneia italiana, la rivista Chitarra gli ha voluto dedicare la rubrica chitarra acustica. Parlare della tecnica di Tommy Emanuel e cercare di non essere più ripetitivo possibile con tutto ciò che già è stato detto di lui nel web non è cosa alquanto facile. Appunto per questo, dopo una minuziosa ricerca, ho scelto di trattare il suo personale approccio con le scale, mettendo in evidenza una determinata successione di intervalli usata spesso dal grande Tommy. Grazie a tutti. 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 Come sempre su Chitarra Magazine di questo mese trovate l'analisi di tutti gli esercizi in esame. Ciao a tutti e alla prossima lezione, sempre da Massimiliano Kona.